Perazzoli nel secondo tempo l'Avezzano ha provato comunque a riprenderla però un primo tempo totalmente insufficiente cosa è successo? Non lo so, è chiaro che la responsabilità è mia, la colpa è esclusivamente mia perché non è la prima volta che succede, la squadra specialmente fuori casa è incappata in qualche prestazione negativa ma negativa sotto il punto di vista dell'atteggiamento quindi il primo responsabile so io e vediamo di... adesso devo parlare con la società perché la delusione è tanta, è grossa e se magari l'allenatore è responsabile di queste prestazioni è giusto a volta che non passo indietro. Ecco come si spiega, ha parlato di atteggiamento sbagliato soprattutto in trasferta, come se lo spiega la differenza di atteggiamento poi invece quando si gioca in casa? Ma non è quando si gioca in casa perché dopo nel secondo tempo la squadra ha avuto un atteggiamento differente, sono state create delle occasioni da gol sbagliate però io non è che sto dietro al gesto tecnico io sto dietro all'atteggiamento e ti ripeto quando l'atteggiamento è quello del primo tempo è successo anche nella trasferta a Fano, è successo all'Aquila, è successo a San Benedetto dopo un quarto d'ora quindi la colpa secondo me è dell'allenatore, l'allenatore fa un passo indietro. Ha detto appunto più volte l'allenatore farà un passo indietro, può spiegarci meglio. Parlo con la società e faccio un passo indietro, meglio di così, parlo con la società e faccio un passo indietro perché secondo me, ripeto, quando queste prestazioni sono ripetitive è giusto che l'allenatore fa un passo indietro, secondo me. Ok mister, invece magari sono pesate anche molto le critiche subite domenica scorsa nonostante la vittoria. No, assolutamente. Ragazzi, i tifosi sono venuti oggi, ci hanno incidato e hanno visto l'ennesima brutta partita, non c'entrano niente, non è una questione dei tifosi, non sto facendo un atto. È perché da parte della squadra sono le ultime trasferte e vedo un atteggiamento remissivo e questo non mi piace. E probabilmente, ripeto, oltre gli errori dei calciatori che so, gli artefici che vanno in campo quando si vincere le partite e quando le perdono, però anche l'allenatore che comanda c'è di responsabilità e quindi vediamo, devo parlare con la società. È una questione di atteggiamento, invece le pedine che sono mancate a centrocampo come Verna e Unazzi, è sembrato che a centrocampo non c'è stato il filtro giusto. Sai, noi abbiamo le assenze dall'inizio del campionato, è normale che quando perdi, io non credo che le assenze possano giustificare l'atteggiamento della partita, è l'atteggiamento che non è andato bene.